Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi vediamo la canzone di Sanremo 20-23 di ultimo, Alba, dopo la sigla. Bene ragazzi, questo video si compone di sei accordi in totale che sono Re minore, quindi Re, Fa, La. Poi Si bemolle, andiamo indietro, Do, Si, Si bemolle, Re, Fa. Andiamo un po' dentro il piano per suonarlo. Poi andiamo ancora indietro, Fa maggiore, Fa, La, Do. Ancora Do maggiore, Do, Mi, Sol, che tutti conosciamo. Poi avremo il La minore, La, Do, Mi. E infine come ultimo accordo il Sol minore. Sol, Si bemolle, Re. E la canzone fa così. C'è un intro prima. E iniziamo. Amo l'Ambra perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'Ambra perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta ma poi vai via. E ti immagini se fossimo al di là dei nostri limiti. Se stessimo di fianco agli abitudini. E avessimo più cura di quei libidi. Saremmo certo più distanti ma più simili. E avremmo dentro noi perenni brividi. Ti immagini se tutto questo fosse la realtà. E riprende da capo. Gli accordi resteranno sempre gli stessi. Anche nella parte in cui alza la melodia. Amo l'Ambra perché spesso odio la vita a mio. Camminando senza meta in questa strana via. Amo l'Ambra perché come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla via. E ti immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti. E credessimo ai sorrisi come i comici. Se non dovessimo parlare per conoscerci. Se non amassimo soltanto i nostri simili. Forse avremmo gli occhi solo per descriverci. Perché uno sguardo in fondo basta per dipingerci. Quando vivi un giorno bello ridi e pensami. Ho ascoltato i miei silenzi, ho avuto i brividi. Perché dentro il mio respiro sei tu che abiti. E quando vivi un giorno bello ridi e pensami. A me basta solo questo per romperti. Ma ti immagini se tutto questo fosse la realtà. Poi c'è di nuovo l'intro. E la canzone finisce così. Bene, come abbiamo visto anche questo è un brano molto semplice da suonare al pianoforte. Io vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto. E di attivare la campanella così ogni volta che esce un video nuovo vi arriva una notifica. E potete guardare subito il video. Inoltre se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra. C'è un video che ho realizzato che spiega come poterlo fare. Quindi vi lascerò il link in descrizione. Ok? Ciao ragazzi. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.